Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un'illecita attività di gestione di rifiuti tessili custoditi in un capannone industriale nei pressi del porto di Napoli. L'attività è stata svolta dalla fiamme gialle del secondo gruppo porto che hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 1300 tonnellate di capi di abbigliamento usati, imballati e non sanificati e un deposito di circa 450 metri quadri in cui gli stessi erano accatastati fino a raggiungere l'altezza di oltre 8 metri. La scoperta dei finanziari è avvenuta durante controlli nell'area di vigilanza doganale quando è stata notata nel piazzante istante l'accesso al capannone la presenza di circa 60 balle di indumenti usati da cui proveniva un forte odore. Si è poi scoperto che il complesso era formalmente condotto in locazione da un 46enne napoletano allo Stato detenuto presso il carcere di Poggio Reale per omicidio che è stato denunciato per le violazioni in tema di certificazione obbligatoria per la prevenzione incendi e al testo unico sull'ambiente. Le indagini proseguono per verificare se ci sono altre persone coinvolte nell'illicito e sull'effettiva destinazione che avevano quegli abiti che sul mercato avrebbero avuto un valore economico di circa 2 milioni di euro.